Eccoci qui, come vi ho detto prima, la TNA, ho detto da ormai diversi anni Impact Wrestling, si prepara ad un evento speciale dedicato per gli abbonati Impact Plus in previsione di Bound for Glory un gol del 24 ottobre, mentre Victory Road che andrà in onda questo sabato 3 ottobre, ovviamente, esclusivamente su www.impactwas.tv e poi anche sulle varie piattaforme, non vi so dire come ci si fa ad abbonare, comunque chi capisce magari l'inglese riesce a tradurlo, bombe a lui. Per quanto riguarda la card, al momento vedo qui da questa fonda che ci sono 6 match, quindi insomma una card buona, infatti abbiamo Eric Young che difenderà il titolo di Massimo di Impact contro Eddie Edwards, la campionessa Deonna Purrazzo che affronterà Susie per il titolo femminile Impact, ho detto Knockouts Championship, poi Open Challenge per il titolo X Division, Roy Traju contro appunto un avversario a sorpresa, Brian Myers contro Tommy Dreamer, poi ennesima rivincita tra Daniel Dashwood e Jordan Grace, e poi in un match che credo questo sarà spettacolare, gli Hit ex Hit Slater in WWE e Rhyno, anche lui ex WWE, contro il Reynaud Shum in un match senza sanzioni, quindi in un unsanctioned match. Beh, non so, spero di poterlo riuscire a guardare io questo evento, nel caso poi farò un video dedicato. Allora, oggi mi vedete che sto pubblicando di più perché in realtà c'ho più disponibilità, poi domani mi aspetto una giornata un po' particolare, sperando che il medio continui ad essere buono come oggi e come ieri. Che altro devo dire? Sicuramente oggi arriverà anche il video che proprio tra poco alle 15 per la primavera ci sarà la sfida che per quanto riguarda le prime squadre è stata fatta in precampionato tra Milan e Monza, ma parliamo di primavera Under-19, sfida che quindi darà la possibilità a una delle due di andare avanti nella competizione senza dimenticare che oggi ci sono ovviamente le tre sfide di recupero della prima giornata di Serie A e la Coppa Italia, quella principale, diciamo, che lega la Serie A, la Serie B e la Serie C. Bene, grazie a voi tutti, quindi ribadiamo, no, che ribadiamo? Questi erano i match, quindi ci vediamo, credo almeno un altro video sicuro arriverà, la vediamo per i prossimi, ciao!